Adesso una più pagina dedicata alla Serie C, la apriamo Luca con un collegamento live. Eh già, perché con noi c'è Santiago Vicentin, difensore del Cerignola. Buonasera Vicentin intanto. Buonasera, buonasera. Cerignola che è primo in coabitazione con altre squadre nel gruppo C di Serie C, squadra imbattuta, un ottimo avvio. Sì, penso che siamo partiti bene, siamo riusciti a fare nelle prime partite quello che c'è chiesto all'elenatore e niente, adesso speriamo di continuare su questo trend. Lei in estate, nella coda dell'estate, ha visto la fiducia della società rinnovata, ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2027, è stato un bel segnale anche per riavviare la stagione. Sì, 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 certo sono molto contento, ne abbiamo discusso questo è stato un po' col direttore, con il presidente, diciamo che ho trovato un ambiente, un bel ambiente qui, mi sono trovato bene, c'erano tutti i presupposti per continuare insieme, quindi sono contento di aver fatto questa scelta, che la società abbia puntato su di me e niente, è un modo anche di ringraziare per la fiducia a tutti loro. I numeri un po' del Cerignola, poi magari con l'aiuto anche della regia vediamo la classifica per chi non ha magari ben presente il punto della situazione nel girone C di Serie C. Sei gol fatti, tre subiti, arrivate da questo pareggio di Avellino su un campo molto complicato, soprattutto due partite di fila senza prendere gol. Quanto siete cresciuti proprio nella fase difensiva? Allora, diciamo che dopo la prima partita in cui abbiamo fatto molto bene a livello di gioco c'è stata qualche disattenzione, che abbiamo cercato di lavorarla di più con il mister durante la settimana. Credo che abbiamo fatto due buone prove di fase difensiva alle ultime due partite, non solo i difensori, parlo di tutta la squadra a livello di pressione, a livello di intensità e niente, dobbiamo cercare di migliorare le cose che possiamo migliorare e continuare a far bene quelle che abbiamo fatte bene. Sin qui, vi sentim per lei, 21 partite complessivamente con l'audace e una rete, gliela farei magari vedere, eccola, quella dell'8 marzo, pesantissima nel finale del match di Caserta, fu 1-1, tra l'altro un gran gol, una grande esecuzione. Ecco, ha segnato sempre poco in carriera, chiaramente il suo ruolo è quello di evitarli i gol, però vista anche la stazza, la capacità di inserimento, di gioco aereo, può crescere anche nell'area avversaria? Sì, sì, sicuramente sì, è uno dei punti che si può migliorare, sia a me come gli altri difensori, gli altri centrocampisti, magari sono stati molto bravi gli attaccanti che sono arrivati al gol nelle prime partite, ma magari stanno mancando un po' i gol dei difensori, qualche pallina attiva, qualche inserimento delle mezzali che sicuramente arriveranno e ci stiamo lavorando per farli arrivare. Arriva il Giuliano nel prossimo turno, altra squadra che non ha perso sin qui in questo campionato, peraltro replay di quel match playoff molto combattuto di circa 4 mesi fa al Monterisi, che tipo di avversario vi aspettate? Sicuramente ci aspetta un avversario molto difficile, una squadra ben allenata, con idee chiare, cercheremo di fare il meglio per metterli in difficoltà, cercare di sfruttare al meglio le nostre potenzialità e cercare di stare attenti alle loro forze. Le chiedo Vicentino un po' qual è l'obiettivo del Cerignola in questa stagione e anche quello di Santiago Vicentino? Penso che l'obiettivo di squadra sia quello di cercare di fare il meglio possibile, tirare le somme a fine anno senza avere nessun rimpianto, continuare a lavorare solo come stiamo facendo finora e a fine anno d'aprile vedere in che situazione ci troviamo, senza avere rimpianti. Poi l'obiettivo personale sicuramente è quello di aiutare la squadra, di fare le più partite possibili e di farle sicuramente di buon livello. Niente, questo sicuramente è un obiettivo, va della mano con l'altro. Piani molto chiari, quelli di Santiago Vicentino, determinato in campo, determinato fuori, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro in vista del prossimo impegno di campionato. Bene, grazie mille, vi auguro una buona serata e grazie.